Ciao, questa è la Gilda, il gruppo ludico LGBT qui a più del Cassero di Bologna. Dal 2014 abbiamo scelto il gioco come strumento di attivismo e cerchiamo di portare all'interno della comunità ludica italiana la cultura del safe space e dell'accoglienza per creare spazi di gioco più sicuri per tutte. In particolare ci occupiamo anche di autorappresentazione, cercando di portare anche la visione LGBT qui a più e delle minoranze tutte. Nel 2024 la Gilda compie 10 anni, un traguardo molto importante per noi e che abbiamo deciso di festeggiare insieme a tutta la nostra comunità che ci supporta o che vuole supportarci. Come faremo? Abbiamo pensato di creare un favoloso calendario. Il calendario della Gilda sarà speciale per tanti motivi. Sarà super rosa, chiaramente, e ogni mese sarà illustrato da un artista diversa che reinterpreterà con il proprio stile unico la nostra mascotte, la Locandiera. La Locandiera è un personaggio queer e irriverente, pensato per ribattare stereotipi di genere. All'interno del calendario troverete i principali eventi della Gilda e del mondo ludico, programmati per il 2024, oltre alle principali ricorrenze del calendario laico LGBTQIA+, e non solo. Affrettati perché la campagna durerà solo 10 giorni. Il lancio verrà effettuato sul canale Twitch del Cassero LGBT QIA+, il giorno 3 dicembre alle 17, durante uno dei nostri eventi domenicali di gioco. Aiutaci a rendere il mondo del gioco più rosa, aperto e accogliente per tutte. Partecipando alla campagna potrai ottenere il calendario 2024 e sosterrai le attività della Gilda.